ciao ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e prima di iniziare vorrei scusarmi con tutti voi perché giustamente come qualcuno me l'ha fatto notare il mio inglese fa veramente pietà vi chiedo scusa in anticipo mi cospargo il capo di cenere perché anche se siamo nel 2022 non riesco a a saper pronunciare le parole in inglese quindi vi prego abbiate pazienza nei miei confronti sono limitato a saper parlare due lingue l'italiano e il francese e già non è male però l'inglese ragazzi non ci riesco quindi state pazienti con me quindi vi chiedo scusa anticipatamente se la mia pronuncia fa veramente cagare dopo questa doverasa premessa e vorrei tornare sul sull'argomento che ieri ha un po' suscitato grande sorpresa positiva ma anche negativa per quanto riguarda questo nuovo volante direct drive o direct drive se preferite della logitech il pro racing wheel ecco faccio gli sforzi sull'inglese e anche se faccio cagare lo stesso perché giustamente a livello di al di là di quello che sono le caratteristiche tecniche di questo volante ed il fatto che tutti quanti praticamente abbiamo lo stesso denominatore comune dei commenti di quello che il pensiero rispetto a che fascia di prezzo si si viene a posizionare logitech cioè 1099 euro per una base plasticosa e un volante una corona che sembra il il 2.0 della serie 900 anche con le 400 bombe da aggiungere se voglio il bundle completo di una pedaliera che sembra anch'essa la 2.0 di una serie 900 tutti quanti ma che prezzo 1500 euro mamma mia ma sono pazzi dovrebbero sfondare il mercato con secondo me 700 euro sarebbe giusto eccetera allora al di là del fatto ragazzi che sono andato a vedermi un po le recensioni sui canali inglesi e che sono palesemente delle marchette pagate d'accordo non è che abbiamo tutti i Mirko De Santis o Giorgio Zegretti che saluto ancora una volta però e questo è normale perché si fa marketing quindi si cerca di spingere il prodotto soprattutto quando si vede che logitech non ha fatto neanche un teaser di annuncio di questo nuovo da Eric Drive che ha aspettato il rientro dalle vacanze proprio per avere l'attenzione della massa c'è comunque un marketing che va fuori dagli schemi ed è questo che attira l'attenzione ci ho riflettuto veramente tanto perché come voi ero stupito e sbalordito dalla scelta di posizionarsi a 1099 euro perché io subito cosa ho fatto il paragone ma come un Alfa Mini con un volante GT1 ce l'ho a 1099 euro oppure c'ho il Gran Turismo DD Pro Premium Bundle che costa di meno e mi danno pure una pedaliera poi c'è il Mozza da R9 ma perché fanno questa scelta logitech sono veramente fuori dal cosa e in più sicuramente uscirà il Trussmaster eccetera allora, fermi, fermi Logitech secondo me ha ragionato in questo senso qua allora ci ho messo un pochettino ad elaborarlo non ci credevo ma in realtà penso che sia quasi un colpo di genio vi spiego Trussmaster è in ritardo ok è da un anno che aspettiamo il loro volante e in più Logitech non può andare a fare concorrenza con dei bundle che ormai hanno tanta esperienza nel mondo del Direct Drive cioè stiamo parlando ad esempio contro Granity Device nessuno si può mettere cioè questi sono 20 anni che lo fanno sono i maestri incontestati del mondo del Direct Drive Fanatec è entrato a gamba tesa comunque prendendosi una bella fetta di mercato e aggiustando il tiro rispetto ai primi motori eccetera poi è uscito il CSL DD adesso il DD Pro che sta avendo un discreto successo e sono sempre sold out quindi vuol dire che hanno un successo pazzesco e quindi Logitech perché nel 2022 a settembre esce con questa bomba qui tranquillamente come se nulla fosse con un prezzo decisamente troppo alto rispetto alla fascia di prezzo che si trova sul mercato ragazzi è molto semplice se ci ragioniamo su non so se sarete d'accordo con me e vi invito a commentare ma c'è una cosa se io prendo questo volante qui senza averlo provato e vedo che sembra una base di un T300 esagero però magari di dei Trussmaster di ultima generazione una corona che è migliorata una 2.0 come dicevo della serie 900 una pedaliera che anche essa è una 2.5 delle vecchie pedaliere della Logitech e migliora un attimino il mio prodotto metto le marce magnetiche l'ergonomia del mio volante è diverso la mia alimentazione è diversa anche riesco a produrre 11 Nm eccetera eccetera e ti posso fare anche agganciare il tuo nuovo direct drive alla scrivania quindi non hai neanche bisogno di una postazione da 1000 e passa euro ti offro anche un bundle completo a 1500 euro e puoi guidare tranquillamente con il nostro marchio Logitech dove voglio arrivare? realmente ragazzi dov'è che comprate Fanatec? dov'è che comprate Alfa Mini eccetera? dov'è che si comprano i Simcube 2 gli OSV gli AccuForce gli AccuForce sì dov'è che si comprano tutti questi volanti direct drive ragazzi su internet o su distributori ufficiali Simmagic è direct drive Italia Arc Team per l'Italia non è che avete un negozio fisico andate lo guardate prendete la scatola e lo ritirate no però Logitech dov'è che lo comprate? sul web ovviamente ma se andate a Carrefour per nominarne uno i Logitech li trovate chi è il diretto concorrente di Logitech? Trustmaster ragazzi Trustmaster perché i T300 si trovano sul web eccetera ma si trovano anche sul Carrefour se non sbaglio ma tu un Fanatec fino ad oggi mi pare che forse il DD Pro si trova adesso perché è in bundle con la Playstation 5 però il primo concorrente è sempre stato Trustmaster quindi Logitech cosa ha fatto? beh tu Trustmaster non esci fuori te lo faccio un direct drive ti faccio un bundle completo che puoi comprare con la Playstation 5 o l'Xbox o anche con il PC del resto non gliene frega niente e quindi hanno ragione ragazzi hanno ragione hanno ragione mi dispiace dirlo così perché io subito ho detto ma sono pazzi in realtà non sono pazzi perché le famiglie i Logitech la conoscono è una il braining il braining che è stato fatto mamma mia il mio inglese ragazzi il braining è stato fatto con questo prodotto è un po' come Vodafone Team come Nike Adidas noi non conosciamo altro sì ci sono le marchettine che escono così quello che ma loro sono stati fortissimi perché è un prodotto familiare che tu compri nel reparto Playstation che dici ah c'è il volante oh il direct drive ma c'è anche il 920 però papà questo è me e se lo prendono mettono il carrello e a Natale si fanno i regali con i direct drive ragazzi cioè io sono venuto a questa conclusione qua Logitech non gliene frega niente del resto del mondo l'unica a cui fa un po' attenzione è Trustmaster e forse un po' Fanatec che diciamo nel mondo del mercato comune di quelli che vanno alla Conad come i padri di famiglia come posso essere io ma consideriamo io che non conosco niente di simulazione cosa faccio internet posso guardarlo così ma quando sono confrontato fisicamente a Trustmaster o Logitech e quale prendo ah ma questa è nuova tecnologia direct drive e mi prendo un direct drive nel reparto informatico di un grande centro commerciale e io non trovo gravity device con simcube 2 non trovo simmagic eccetera cioè il canale di distribuzione che ha in più Logitech insieme a Trustmaster sono tutti i Carrefour d'Italia tutti i Carrefour del mondo tutti i Conad che ci sono tutti che concorrenza hanno infatti hanno venduto Logitech 900 e passa a a massa quindi tecnicamente ragazzi non è che hanno sbagliato a livello di marketing io e voi che siamo in un canale di nicchia come i simdrivers o quelli che seguono tutti gli youtubers che si occupano di simulazione sappiamo che è un prezzo assurdo rispetto a quello che oggi propone il mercato ma quanti siamo e quant'è il resto del mondo quindi Logitech non sono pazzi anzi e quindi la miniatura con seriamente era proprio per provocare la discussione in questo senso qua non sto discutendo ovviamente della qualità del prodotto che probabilmente sarà forse anche rivoluzionario perché la tecnologia che c'è dentro non lo so però conoscendo Logitech sappiamo qual è la la fascia in cui si situa questo prodotto qua però cavolo ragazzi altro che altro che siamo noi che abbiamo mal interpretato quella che è stata la mossa di marketing ovviamente questo è il mio ragionamento che forse è completamente fuori o forse è Logitech che è uscita fuori dagli schemi mantenendo i suoi canali di distribuzione più importanti quali i centri commerciali puntando a quei a quei a quelle persone che a quella fascia di mercato che non è esperta e che probabilmente sia contenta di andare a prendere un prodotto su uno scaffale e a fare vendita di massa di un prodotto che probabilmente anche soddisferà queste persone qua e basta ragazzi quindi a questo punto cosa ne pensate sbaglio o Logitech non capisce nulla del mercato o ditemi cosa ne pensate così avremo modo di discuterne io ragazzi non aggiungo altro perché proprio le caratteristiche tecniche non le ho studiate e io Logitech non è che la guardo però pensateci a questa cosa qua riflettete fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti noi come al solito ci vediamo prestissimo mi raccomando se questo video e questa mia riflessione vi è piaciuta e siete d'accordo un pollice in su iscrivetevi al canale tanto è gratuito noi ci vediamo prestissimo da Fabrice è tutto un abbraccio ciao